Ed eccoci qua cari amici, non credo che mi venga questo filmato perché è buio Dai la proviamo, abbiamo qua la bellezza, guardate qua carissimi amici, 2 OM leoncino E niente insomma ragazzi, sarà difficile fare questo filmato perché le condizioni di luce sono veramente pessime Comunque guardate qua, carissimi amici, 2 OM leoncino uno sopra l'altro, non capita tutti i giorni Il buon Gustavo è andato a recuperarlo, eccolo qua, carissimi amici, eccolo qua, 2 OM leoncino qua Guardate eh, ci sono 2 OM leoncino e il buon Gustavo è andato a recuperarne uno qua a Bassano Adesso vediamo un attimo ma sarà difficile qua, eccolo qua insomma, il secondo OM leoncino insomma Una foto così non capita tutti i giorni, 2 OM leoncino, guardate qua insomma Flash breve qua, purtroppo se arrivava prima, peccato ragazzi guardate qua sono in mezzo al traffico Però vai così, vuoi fare il report, bisogna rischiare eh ragazzi, questo è il Marvin Guardate qua carissimi amici, 2 OM leoncino Adesso Gustavo aspetta che prendo il flash che faccio la foto eh Guardate qua cari amici, niente, piccola diretta qua per gli amici del light di Track 135 E il buon Gustavo è andato a recuperare il buon leoncino nelle zone di Bassano e niente dai Lo vedremo meglio in condizioni di luce migliore Guardate qua in mezzo al traffico insomma, eccolo qua Stava da un demolitore, eccolo qua Il secondo OM leoncino E niente, qua il Marvin chiude, guardate qua Profumo di nafta c'è Guardate, in mezzo al traffico il Marvin è pazzo qua Sta già facendo il documentario, guardate qua Ragazzi qua il Marvin vi saluta E niente, facciamo le foto dai Ci rimane questa traccia almeno Ciao a tutti Eh non credo che il filmato venga dai speriamo ma non credo Ciao a tutti